Marcello Falserano, migliore in campo secondo Stefano De Francesco, 7 e mezzo da parte di Stefano, immagino che Falserano sia d'accordo, meritavi l'otto Marcello? Addirittura non penso che sia troppo alto anche il 7 e mezzo. Facciamo i modesti questa sera, invece si è stato straordinario, noi non trovavamo più aggettivi durante la telecronica perché hai giocato dovunque, fase difensiva, fase offensiva, si è andato a suggerire anche Dragomir su quella che è stata l'occasione del 3-1, più di questo non si poteva chiedere a Falserano e alla squadra, diciamo, sul piano anche della capacità di soffrire sul vantaggio, proprio negli ultimi minuti, quando ho provato dal rimbaggio il Chievo. Sì, questo infatti è una cosa che ci lascia ben sperare, il fatto che sappiamo soffrire, e quindi è una cosa che dobbiamo mantenere, insieme a tutte le cose buone che abbiamo fatto stasera, però credo che abbiamo fatto anche tanti errori, tante scelte sbagliate e su queste dobbiamo lavorare in settimana, sicuramente col mister lo faremo. Si riferisce a Falserano, immagino, al primo tempo in cui qualcosa non è andato nel verso giusto, perché? Io dico anche che loro sono partiti, parlo del Chievo, sono partiti molto aggressivi e quindi facevamo un po' fatica a trovare le nostre giocate, quelle che avevamo provato, un po' il campo, un po' la loro pressione, un po' forse anche noi un po' timidini e quel gol a freddo, quindi un insieme di cose ci ha portato ad andare in difficoltà, però questo poi abbiamo dimostrato che comunque siamo riusciti a reagire. E infatti la conferma arriva proprio da questo, una squadra che rimane sempre viva, era successo con il Brescia, il sorpasso c'è stato anche questa sera contro una squadra fortissima in attacco, ma in generale completa, come il Chievo di Marcolini. Sì, sì, assolutamente, loro sono una squadra molto forte, quindi sapevamo di incontrare una squadra così, ma siamo consapevoli anche noi di quello che possiamo fare quest'anno. Siamo felici di stasera, ce lo godiamo, ma da domani dobbiamo resettare. Io penso che se arrivano giocatori forti che ci possano dare una mano, ovvio che servono. Abbiamo comunque un direttore che è molto preparato in questo e sia noi giocatori che la società penso ha piena fiducia nel suo lavoro.